Sono le moto d'epoca all'ingresso del Teatro Agusteo di Salerno a rappresentare per tanti, anche con un pizzico di nostalgia ma con tanti ricordi, che la Polizia Municipale di Salerno ne ha fatta di strada nella città di Salerno. A pochi giorni dalla solennità della festa di San Sebastiano, protettore dei vigili urbani, si è svolta stamani, dopo due anni dalla pandemia, la festa per rappresentare lo stretto legame tra la Polizia Municipale e la città di Salerno, una cerimonia che ha rappresentato un riconoscimento al lavoro che le donne e gli uomini in divisa mettono quotidianamente a favore dei salernitani. Introdotta dall'inno nazionale alla presenza del picchetto d'onore, sono stati conferiti elogi ed encomia agli appartenenti del Corpo della Polizia Municipale di Salerno, che si sono particolarmente distinti in operazioni al servizio della comunità. Gli interventi del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell'assessore alla sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali, del comandante della Polizia Municipale di Salerno, il colonnello Rosario Battipaglia, hanno ricordato il ruolo degli agenti di Polizia Municipale al servizio del cittadino per tutte le necessità e difficoltà legate alla sicurezza urbana. Spirito di servizio, di sacrificio, di disponibilità verso il prossimo, sono le doti più significative per raffigurare l'intera categoria degli agenti di Polizia Municipale di Salerno, che operano a stretto contatto con i cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, nonché di scolaresche, familiari e concittadini. Non è mancato un momento di solenne benedizione affidato al cappellano provinciale della Polizia di Stato, Don Giuseppe Greco, e la lettura della preghiera del vigile urbano, recitata all'unisono da tutti gli agenti della Polizia Municipale. Una bella e solenne occasione per manifestare la gratitudine collettiva alle donne e agli uomini, che ogni giorno sono impegnati per la viabilità, la sicurezza e la legalità, ma anche l'occasione per ricordare gli agenti di Polizia Municipale defunti e tutti coloro che sono andati in pensione. Nell'atrio del Teatro Agusteo di Salerno è stata allestita un'esposizione di moto d'epoca della Polizia Municipale ed una mostra dedicata a San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Municipale, a cura dell'Associazione San Sebastiano Martire di Salvitelle, presieduta da Pompeo Perretta.